ecco inizia così una settimana speciale speciale non tanto per il posto anche se andiamo vicino a forte dei marmi ma non è che interessa tantissimo questo ma speciale per le persone che comporranno questa settimana come in cielo così in terra sì queste persone sono tutte speciali e ciascuna con le sue idee governo ladro a dire la verità però siamo tutti speciali perché nessuno di noi è duplicato di nessuno ognuno di noi è irripetibile e ha qualche cosa di speciale da donare a questo mondo anche se troppo spesso molti di noi non credono a questa loro ricchezza ti trovi però a vivere dei momenti e questa settimana è proprio uno di questi in cui la specialità di ciascuno la capacità di gioire la voglia di accogliere la pazienza di amare si incontrano ed emerge una bellezza straordinaria e ordinare allo stesso tempo una bellezza che ti accompagna a rigustare la ricchezza che sei e a prendere coscienza di quanto sia grande il dono che hai ricevuto la vita che sia benedetta per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta e siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta tenersela stretta siamo eterno siamo passi siamo stori ti voglio bene non hai mica capito e questa bellezza colpisce contagia fa interrogare fa proprio bene è una grazie signore per la settimana trascorsa con queste persone e grazie perché non smetti di renderti presente in tutti i modi possibili